Ciao Giuseppe, siamo con Giuseppe D'Antonio che è fondatore di Cascade e quindi la prima domanda che ti faccio è che cos'è Cascade e poi come ci sei arrivato a Cascade. Ciao Nicola, buongiorno e grazie dell'opportunità ovviamente. Anzi, ti correggo nel senso che non sono fondatore di Cascade, sono amministratore delegato e fondatore di Circo 1000, prodotto di Cascade, ma Cascade è stata fondata da Eric Lumer prima di me nel 2008. Quindi praticamente Eric ha fondato Cascade tre anni e più fa con l'intento di lavorare su un tema che era caldo già all'epoca, che era quello di cercare di filtrare in modo ottimale i contenuti dei social media in base agli interessi degli utenti che li ricevevano. Poi nell'evoluzione del progetto sono entrato anch'io come partner, questo più o meno un anno e mezzo fa, e da lì è nata l'idea di Circo 1000 che oggi è il prodotto, diciamo è la sostanza in realtà della società Cascade, quindi ha sviluppato un prodotto sulle tecnologie iniziali che Eric aveva ideato. Ok, allora spiegami adesso quindi che cos'è Circo 1000, l'avete lanciato da pochissimo, credo un paio di mesi, anche di meno. Esatto, esatto, noi l'abbiamo lanciato ufficialmente a un evento di Vienna dove eravamo finalisti, Startup Week, il 4 ottobre. Quindi più o meno due mesi è un ambiente web, per ora ma fra uno o due mesi anche mobile ovviamente, dove qualunque utente può esprimere i suoi interessi, le sue passioni, direttamente in modo trasparente. Che succede? Quando l'utente esprime queste passioni, quindi si collega alle sue passioni, non a altre persone come nei social networks, ma a dei concetti, che possono essere il viaggiare, la città di Venezia, la pizza, la musica di Lady Gaga, eccetera. Una volta collegata a queste passioni, l'utente riceve dei servizi e dei contenuti relativi a questi suoi interessi, a queste passioni. E quindi si crea un mondo di attività che per l'utente è interessante perché è appunto associato a tutte le passioni che l'utente ha. Poi ovviamente scopre anche quali sono eventi legati alle sue passioni che stanno per accadere, persone che condividono i loro stessi interessi, eccetera. Per capire come si arriva a CircleMe, raccontami un po' di storia, diciamo, tu dove vieni, che cosa hai fatto prima di fare questa start-up. Allora, io personalmente ho come background una laurea in ingegneria. Stavo studiando in realtà ingegneria all'Aquila quando vinsi una borsa di studio di una società privata che mi portò praticamente a finire i miei studi negli Stati Uniti. Quindi sono partito abbastanza giovane per gli Stati Uniti, poi sono rimasto all'estero per ben 13 anni, di cui diversi anni, appunto, quasi 9 vissuti negli Stati Uniti. Infatti ho la Green Card, sono un residente americano. Poi dopo mi sono trasferito in Europa dove ho vissuto per diversi anni a Parigi, in Francia e a Londra. Ho fatto anche dei periodi più brevi in Svizzera e a Singapore e poi recentemente, più o meno 4 anni o poco più, sono ritornato in Italia. In questi anni all'estero praticamente ho lavorato, inizialmente subito dopo la laurea, per una società nel settore della tecnologia ma offline, quindi non nel settore di internet che si chiama Manhattan Associates. Quando iniziai con loro erano un team di circa 100-150 persone, io entravo come consulente tecnico, però poi sono rimasto circa 7 anni con loro perché la società è andata alla grande. All'epoca era uno start-up quando entrai io, anche se comunque 150 persone, ma divenne una società di 3500 persone, pubblica sul Nasdaq, eccetera. Quindi ho fatto tantissima esperienza di start-up all'interno, vissuta diciamo dal basso. Dopo ho preso una pausa, durante ho preso una pausa per prendere un MBA, quindi un Master in Business Administration in Francia. Subito dopo ho fatto parte del team di Google per un periodo, ero responsabile in Italia per il business development e le partnerships, soprattutto quelle di AdSense, quindi legate alla monetizzazione di tutti i siti partners di Google, che comunque era un business abbastanza grande per l'Italia. Poi siccome non c'erano altre persone che si occupavano di YouTube all'epoca, di Google Books e altri, io seguivo con questo sviluppo. Poi il team ovviamente è cresciuto. Dopo Google, dopo questa esperienza in Google, ho fatto parte del management di Dada, società che è abbastanza conosciuta in Italia, nel settore di internet. E poi dopo, dopo Dada, dove a proposito ho conosciuto Antonio Tomarchio, che so che ho intervistato la settimana scorsa. Dopo Dada, invece, è capitata questa iniziale collaborazione con Eric nella sua società Cascad e poi il voler veramente fare le cose insieme per lanciare Sir Comi sul mercato. Questo velocemente. Eric come l'hai conosciuto? Eric io l'ho conosciuto in realtà introdotto da una mia conoscenza nel venture capital che aveva investito in Cascad. Quindi io conoscevo l'amministratore delegato di Innogest e lui mi ha chiesto di conoscere Eric, di fare due chiacchiere. Mi sono molto interessato al progetto e poi da lì è iniziata una collaborazione leggera all'inizio come consulente che poi invece col tempo è cresciuta. Senti, Cascad non è ancora un'azienda profittevole, cioè un'azienda ancora in fase di start-up immagino? Sì, ancora in fase di start-up proprio perché alla fine il consumer product lanciato appunto da due mesi, per ora per noi è solamente, come focus abbiamo solamente quello di aumentare da una parte il traffico, ma essere certi poi che il prodotto che stiamo facendo è convincente, quindi lavoriamo neanche tanto sui numeri della community ancora, ma soprattutto sull'engagement, sulla stickiness del singolo utente. E poi su un'altra cosa che è fondamentale secondo noi che è il fattore virale, cioè quanto in realtà cresce in modo naturale invece che spinto da noi, per qualunque ragione. E come sta andando? Per essere le prime 8-9 settimane sta andando molto bene, abbiamo crescite su quello che si dice double digit per quanto riguarda in percentuale, su tanti dei fattori che misuriamo. Allora, da una parte è ovvio che si misurano delle cose molto banali per qualunque tipo di sito web come utenti unici, pagine viste, time on site eccetera eccetera. Noi abbiamo però una serie di fattori, di ratios che tracciamo molto specifiche di circle me, ad esempio su circle me un utente può esprimere likes, no? Le proprie passioni. Noi misuriamo ovviamente quante espressioni di likes vengono fatte in un periodo, quindi a settimana eccetera. E cerchiamo di vedere se questo fattore ovviamente nel tempo aumenta. Un altro è quanti suggerimenti vengono fatti all'interno, quanti contenuti vengono consumati, quanti commenti, quante mail. E quindi cerchiamo di monitorare tutti questi fattori e vedere che tutti questi siano in crescita continua. Quando siamo abbastanza convinti del fatto che ci sia molto engagement e che gli utenti tornino spesso sul sito, allora potremo spingere la crescita della comunità in assoluto. Allora questo è interessante, colgo l'occasione, voglio aprire una parentesi su questa cosa che tu hai detto perché mi sembra molto interessante, cioè come fai tu a misurare, quali sono gli indicatori che vengono utilizzati per misurare il successo, cioè per misurare se le cose che stai facendo stanno andando bene o meno, perché spessissimo vengono misurate solamente robe tipo page view e unique visitors e via di seguito. E queste Eric Chrysler chiama principalmente vanity metrics, sono robe che magari ti, o gli utenti registrati semplicemente, sono robe che vanno bene da mettere nei comunicati stampa ma che in realtà non ti danno il senso reale di dove stai andando come azienda. Mentre è utile, e tu me lo confermi, che soprattutto in un prodotto web uno si mette appunto il proprio sistema di KPI che sono quelli che poi ti costruiscono le metriche su che cosa è monetizzabile immagino, no? Sì, assolutamente, cioè è fondamentale. È vero che non sono solo vanity metrics perché se tu pensi, il problema è che tante volte l'investitore anche al primo incontro, al secondo incontro, siccome non capisce neanche bene il tuo business, ovviamente vuole qualche tipo di riferimento quantitativo e quindi dargli unique users, page views, eccetera, è un inizio. Però sicuramente sarebbe un errore madornale, specialmente per chi sta cercando di creare un nuovo tipo di prodotto che comunque ha quindi un engagement diverso rispetto al classico blog o publishing site. In questo caso è fondamentale che si capisca quando questo prodotto può aver successo, quali sono le metriche che mi sono in successo. Queste internamente devono essere misurate e devono essere sempre molto specifiche. Sono poi legate a qual è il modello di business, perché se il modello di business è, ad esempio, uno standard modello di monetizzazione con banner, quindi semplicemente a CPM, allora ci può pure stare che le page views siano un metodo di misura, ma se il modello di business è un po' più complesso, nel caso di Circom.me è già una cosa diversa, dove è molto importante il click through rate, dove è molto importante il consumo di certi tipi di contenuti, eccetera, esattamente quel tipo di attività all'interno. Senti, quindi tu, diciamo, sostanzialmente stai facendo Circom.me, ma in una struttura già avviata, quindi il team già te lo sei trovato? Mi sono trovato gli ingegneri, quindi erano cinque ingegneri, ora siamo, diciamo, il doppio, però comunque sempre uno startup, quindi siamo 11-12, nel senso che c'è una persona part-time, e quindi io mi sono trovato comunque una parte fondamentale del team già piazzata. E com'è composto? Sono tutti ingegneri oppure sono i cinque e poi tu hai messo dei soft skill? Allora, i soft skill, che poi nel nostro mondo è relativo, perché anche il marketing manager è un super tecnico, come giustamente dovrebbe essere, sono arrivati dopo. Quindi adesso, per darti un'idea del team, abbiamo, vabbè, Eric ovviamente è mio socio, quattro ingegneri di hard core, un esperto di user experience, un marketing manager, due community managers, scusa, un community manager, due content managers, perché la qualità dei contenuti è fondamentale, è una persona che ci supporta nella gestione dell'amministrazione, dell'ufficio, e fa anche attività di content management. Come selezioni tu i membri del team? Sì, in realtà questo è fondamentale, ovvio che devo farli io, ma non solo io, quindi ovvio che deve farli anche Eric, ma andrei oltre, essendo il team molto piccolo, è fondamentale che tutti conoscano la persona, quindi se il colloquio è formale o informale è un'altra cosa, però che comunque le altre persone del team conoscano queste persone nel processo è veramente importante. Questo mi fu insegnato da Google stessa, e Google… Non ho capito, scusami, cioè tu fai un colloquio, li fai colloquiare a tutti? Allora, no, a tutti non ce la facciamo, sennò sarebbe un po' inefficiente come processo, però cerchiamo di far conoscere queste persone comunque prima di prendere una decisione anche con altre persone del team, anche se è semplicemente un pranzo fuori insieme o qualcosa, e secondo me in futuro dovremmo farlo sempre così fino a una certa dimensione, perché è importante, alla fine lavoreranno sempre insieme. Cioè quindi, c'hai questo mitico processo di selezione di Google, ti sei portato a press, in cui dicono che ci mettono mesi per prendere qualcuno, che cosa ti sei portato a press, diciamo, di questa esperienza? Sì, quel processo mitico è vero in diverse delle cose, io stesso feci mi sembra 13 o 14 colloqui nel giro di 2-3 mesi per entrare, e la cosa interessante è che proprio nella policy di Google che tutti devono essere sicuri che tu sia un'aggiunta di valore al team, se no non passi la selezione. Quindi è un colloquio che non è basato sulle skill tecniche, è un colloquio basato sull'indagine sulla personalità della persona? Tanti sì, esatto, soprattutto, poi dipende evidentemente dal ruolo, quindi nel caso mio, io ero responsabile di business development, i skill tecnici non mi sono stati neanche misurati, se non che ovviamente la laurea in ingegneria ce l'ho, ho lavorato per 10 anni nel settore tecnico, quindi teoricamente qualcosa di tecnico so anch'io, però era un ruolo di business. In assoluto io credo che sia molto logico questo tipo di approccio, infatti poi quando sono andato in data dove abbiamo incrementato il team in un anno di molte decine di persone, cercavo di seguire questo processo di assunzione, ossia che comunque le persone che lavoreranno insieme al nuovo assunto devono in qualche modo fare il colloquio almeno alcuni di loro, perché è importante, il capo non può imporre una persona nel team che poi alla fine non si trova, non è un fit anche a livello umano con gli altri. Ora, fatto come lo faceva Google è un po' eccessivo perché tu pensa che all'epoca in cui fui assunto io le persone di un certo livello manageriale, io comunque non ero molto in alto in Google, cominciavo ad essere un manager ma non estremamente in alto e comunque la mia assunzione veniva approvata o da Larry o da Sergei, i due fondatori, per firma, che era un po' eccessivo perché eravamo già 7.000 persone. Molte cose da firmare. Che cosa cerchi nelle persone che assumi? Io credo passione per il settore, credo sia una delle prime cose, è difficile ad esempio in quello che facciamo noi trovare esperienza, quindi trovare un'esperienza specifica, soprattutto in una cosa come quella che stiamo facendo ora, Sircomin, non ci sono paragonabili o competitors passati per cui è interessante prendere qualcuno da qualche altra società per questo. Molto più importante è invece vedere se c'è una passione particolare per quel settore o per quella nicchia del settore, quindi questa è sicuramente una prima cosa. sicuramente un'alta flessibilità nel modo di lavorare, ma è ovvio questo, facendo parte di uno startup… E come fai a misurare la flessibilità di una persona che non conosce? È interessante. Secondo me viene fuori dalle chiacchierate e da come hanno lavorato in passato, semplicemente da questo, dal capire come in genere lavorano in base a come richiedono il lavoro che gli sia dato, se sono molto formali in questo tipo di approccio, se potrebbe essere un rischio perché in realtà non potrebbero avere questa flessibilità poi richiesta e poi in generale dal tipo di passione che dimostrano durante le chiacchierate. Non voglio dire neanche colloquio, ma proprio durante le chiacchierate. E tante volte il processo di colloquio e assunzione non dura durante la telefonata o l'incontro solamente, ma soprattutto durante quello che succede tra una cosa e l'altra. Ad esempio, una cosa banale, se ovviamente si parla, quindi qualcuno vuole venire a lavorare per Sircomi, sembra sano se tra un colloquio e l'altro il candidato non provi a iscriversi a Sircomi per almeno provare come il prodotto e alle volte succede ovviamente. Questo non è un segnale molto positivo. Se invece io vedo una persona molto interessata che dopo un po' magari mi ricontatta per dirmi anche che ha letto di alcune cose del settore che sono molto interessanti e si potrebbero applicare nel caso, nel ruolo specifico in Sircomi, eccetera, queste sono tutte cose che mandano dei segnali positivi. E' anche vero che potrebbero essere in qualche modo artificiali, però poi è nell'esperienza umana capire se lo fanno per cercare di battere il sistema o perché veramente hanno un interesse. Certo. E ritorniamo al tuo percorso. Tu hai lavorato sostanzialmente come dipendente per la maggior parte della tua carriera lavorativa. Sì. E a che punto hai deciso di fare il passaggio di diventare imprenditore e perché? A livello di business ho deciso già al tempo dell'accettazione dell'offerta di Google perché in realtà ero io confuso dal fatto di pensare che Google fosse ancora una startup in un certo senso perché quando discutevo con Google era il 2005-2006 comunque Google non era ancora così grande per cui pensare di andare a lavorare in Google era pensare di andare a lavorare in uno startup o almeno in quel tipo di mentalità. Col tempo questo è maturato sempre di più. Ho provato in un paio di occasioni con alcuni amici soprattutto dell'NBA di lanciare delle attività una volta a Parigi e una volta in Asia insieme a una mia amica ma non si sono concretizzate quindi ho imparato delle prime cose sul fatto che soprattutto non è facile trovare la persona giusta con cui collaborare. È una delle, diciamo il cofondatore o comunque il partner è una delle cose più difficili poi da trovare e questa idea è continuata a maturare col tempo. Quando sono entrato in Dada in realtà era per lanciare una nuova divisione chiamata Simpli Punto di Dada praticamente che si occupava dell'advertising scalabile quindi quello anche se in un ambiente protetto era uno startup. Da una parte avevamo il prodotto perché Dada aveva appena acquisito una tecnologia però dovevamo formare il team da zero, trovare i publishers, trovare ovviamente gli advertisers non solo in self provisioning ma vendere e far crescere il team come abbiamo fatto da inizialmente 6-7 persone fino a diverse decine di persone. E queste erano tutte prove che mi trovavo sempre più a mio agio nel tipo di ambiente da startup e quindi subito dopo l'esperienza di Dada ho pensato di voler fare la cosa mia, se non che poi ho trovato in Eric in realtà un partner per provare a fare la cosa insieme. Mi interessano molto i progetti abortiti, se mi puoi dire di che cosa si trattava e perché poi alla fine sono rimasti degli esperimenti ma non siete andati avanti. Allora erano in realtà però non so se ti può interessare il fatto che uno dei primi progetti non era legato all'online in nessun modo, era una società che avrebbe esportato un tipo di prodotti dall'Italia alla Cina, l'idea è nata nel 2004-2005 e appunto il mio partner in quel caso sarebbe stata una mia amica che era basata all'epoca a Hong Kong, mentre da una parte l'idea ci piaceva molto, c'era anche un fit umano, quindi comunque eravamo veramente forti amici eccetera e avevamo delle skill abbastanza bilanciate tra me e lei e soprattutto riuscivamo a coprire molto sia la cultura europea italiana che la cultura cinese-asiatica. Alla fine in quel caso il problema era, non c'era un commitment vero, ma forse da nessuna delle due parti, nel senso che comunque ci faceva comodo avere il nostro posto fisso in azienda e provare a fare questo mentre, quindi lavorare dopo lavoro o comunque nel weekend per cercare di fare qualcosa. Ci siamo resi conto tutte e due e forse ancora peggio per il fatto che comunque avevamo cercato di lavorare insieme in remoto che non era facile, ci siamo resi conto dopo un po' che non era fattibile una cosa del genere se non avessimo lasciato i nostri lavori. e allora lì è iniziato un gioco particolare per cui aspettavamo l'altra persona nel fare questa decisione importante prima di farla e ovviamente non poteva funzionare così, il problema è che non eravamo pronti a prenderci il rischio al 100% e quindi siamo andati diversi mesi avanti ma anche cercando di fare delle cose come collaborazioni con aziende, abbiamo parlato con diverse aziende in Italia eccetera, però comunque senza dimostrare noi stessi il convincente al 100% che questa cosa la volevamo fare e che volevamo rischiare. Questa è una prima cosa, una seconda cosa simile però legata comunque invece al mio abbandonare la Francia, vivevo a Perigi e stavo per investire e diventare partner in una società che poi ha avuto successo, che lavorava praticamente nel settore della distribuzione di alimenti e aveva anche una divisione che invece faceva prodotti soprattutto di gelateria. in questo caso in concomitanza di questa opportunità dove io l'avevo presa molto più seriamente, questa volta anche perché il partner sarebbe stato locale, arrivo all'offerta di Google non ricercata ma attraverso un altro contatto e quindi a quel punto il mio fascino per comunque il settore della tecnologia mi ha trascinato ad accettarla. Senti, quindi in tutto questo che cosa hai imparato su come si sceglie un socio? Credo la cosa più importante, allora due, uno e forse la cosa più importante è la fiducia che devi avere nell'altra persona e che è molto difficile averla se questa persona non si conosce da passati di amicizia eccetera, quindi comunque va costruita e ci vuole tempo e l'altra cosa che è fondamentale avere un socio che comunque ti bilanci totalmente in quello che fai, quindi io sono evidentemente non abbastanza forte per certe capacità tecniche ad esempio e quindi per forza di cose il mio socio dovrebbe avere forte capacità tecnica, questo sicuramente, allo stesso tempo devo io aggiungere valore abbastanza a questo socio per essere ritenuto valido come socio e per avere la sua fiducia e quindi in questo caso devo capire io cosa posso offrire alla collaborazione. Quindi Erika ha un profilo più tecnico, ancora più tecnico del tuo? Estremamente, estremamente, lui era un… Non ha tradito diciamo l'ingegneria diciamo per il business, è rimasto ingegnere? Sì, comunque ha un grandissimo intuito anche di business devo dire, per fortuna ha una mente di alto livello, però ha lavorato per tanti anni come ricercatore a Xerox Park, è un PhD di Stanford, è comunque un serial entrepreneur, quindi diciamo è sicuramente molto molto forte dal punto di vista. Senti tu adesso stai facendo anche l'investitore in Bintu, quindi hai questo doppio ruolo, da un lato stai come dire intraprendendo per conto tuo e dall'altro lato investi e allora a questo punto, quindi stai facendo il business angel sostanzialmente no? Da quello che ho capito. Sì. E come si decide che metti dei soldi tuoi dentro una cosa che sta facendo un altro? Ti fidi totalmente di quello che sta facendo e credi che sia una bellissima cosa quello che sta facendo e quindi ovviamente avendo l'attitudine giusta, che è quella comunque in un certo senso di essere imprenditore e credendo molto in quell'idea, essendo innamorato della persona e del team, ci credi e ti butti. Questo tipo di decisioni io devo dire soprattutto il business angel, secondo me un altro tipo di investitore che può essere il venture capital o altri, lo fa con dei ragionamenti anche per fare il leveraging del rischio, quindi per equilibrare il rischio eccetera, il business angel come nel caso mio però è anche difficile definirmi un business angel, io volevo farlo il business angel, poi che è successo? Ho investito prima su Beintu, poi ho scoperto questa bellissima opportunità in cascade e quindi è ovvio che adesso sto molto attento a fare il business angel con un'altra opportunità perché prima di tutto i soldi li vorrei investire in cascade perché ci credo, infatti ce l'ho messi anche alcuni. Però in generale il concetto del business angel è che è una persona che vuole rischiare e non pensa molto al ritorno in assoluto finanziario di quello che sta facendo e che crede veramente in alcuni progetti, crede veramente e si fida veramente di certe persone. Quindi in quel caso, nel caso specifico di Antonio, io lo conoscevo molto bene perché lavorava per me in Dada, avevamo parlato tante volte di idee legate al settore e siccome quando ci siamo rivisti poco dopo Dada lui aveva un'idea che secondo me era eccezionale e che ha un potenziale gigantesco e mi è sempre piaciuto lui e il suo team, a quel punto uno si butta, cioè si tappa il naso proprio e si butta a piedi uniti o lavava la spacca ma è soprattutto per dar potenziale a che una cosa diventi realtà. Poi che ci sia una logica dietro finanziaria, secondo me il business angel lo deve fare fino a un certo punto. Ma ci sono i business angel in Italia? Guarda, è interessante perché secondo me… Ci sono molte organizzazioni di business angel, che però ci hanno dei… perlomeno io siccome adesso sono anch'io nella parte di quello che sta cercando dei soldi in questo momento per la propria start up, la cosa che mi ha un po' lasciato perplesso dell'approccio di questi network di business angel è che ragionano come Devential Capitalist, cioè fondamentalmente ti fanno filtrare da un professionista che ti chiede il business plan. Ora, boh, mi sembrava… e in alcuni di questi network in realtà più che esserci imprenditori o ex imprenditori eccetera ci sono dirigenti, professionisti e fino anche qualche notaio. Sì, non va. Assolutamente, allora secondo me per noi è sicuramente una novità, per noi intendo, per l'Italia in generale questo tipo di ruolo e infatti fino ad ora non è che c'è stato in modo molto efficace. Qualcosa sta cambiando, adesso non so se tu lo noti o se altri magari che stanno vedendo queste interviste lo notano però nell'ultimo anno, anno e mezzo qualcosa è cambiato e di più la gente si rende conto che il business angel di suo non può essere quel tipo di investitore che hai appena menzionato te perché non si può basare su un business model ovviamente anche perché se l'investimento va fatto ed è un investimento ad alto rischio, l'alto rischio sta nella non prevedibilità di quello che succederà. Fare un business plan fatto in Excel mese per mese non ha nessun senso. Beintu è un esempio proprio preciso di questo. Io ovviamente non ho investito su un business plan ma su un'idea, una visione in generale di scalabilità, un team e questa fiducia che avevo per loro. Però non è possibile farlo su questo tipo di modello di business plan. Se si fa su questo vuol dire che non si sta rischiando e quindi il tipo di investimento è già di un altro livello, non è da business angel. Business angel investe magari poco ma è estremamente early stage non sapendo appunto quanto prevedibile il tipo di business ma credendo nell'idea, nel team e il potenziale è che se le cose vanno bene il ritorno è estremamente elevato però deve veramente rischiare molto. In Italia adesso qualcuno sta uscendo fuori secondo me però il problema è anche che da una parte manca l'ecosistema e siccome girano meno soldi in assolutamente non riescono a rischiare. Ci sono meno individui che hanno il potenziale di far girare questi soldi a meno di una certa fascia secondo me di età e quindi di un'apertura mentale a questo nostro settore. Senti, a proposito di rischio, oggi c'è tutta una letteratura ma non solo letteratura diciamo su come si minimizza il rischio di una startup, no? Quindi i vari customer development, Eric Slari Reis con la Lean Startup, Eric Costell Varder con il business model canvas e compagna bella. Voi usate queste cose all'interno della vostra startup? Ma noi usiamo una metodologia che comunque è una metodologia agile molto rinomata che funziona molto bene per noi per lo sviluppo che è Scrum che funziona ottimamente. Poi se in modo diretto o indiretto usiamo alcune di queste teorie è possibile però nessuna in modo assolutamente formale. Ti faccio degli esempi comunque specifici. Noi cerchiamo di fare una release tutti i martedì mattina e c'è una ragione per questo. Uno perché ci dà un metronomo di sviluppo perché ci permette di rilasciare in pacchetti più gestibili invece di fare macro release che invece hanno alto rischio. Perché questo stesso fare una release settimanale permette agli utenti di avere una ragione o comunque un interesse più per tornare e quindi aumenta la stickiness famosa di cui parlavamo prima. Queste sono due metodologie quindi che noi implementiamo però detto questo adesso io non sono un esperto delle teorie sicuramente lo sai più di me e mi vuoi dire se queste fittano alcune delle teorie menzionate. Però questi due sicuramente funzionano molto bene. Io sono convinto che però lo scrum se il team aumenta ancora un po' comincerà a diventare complesso da utilizzare. E l'altra cosa... Non scalano le metodologie agile? Eh no, secondo me no. A un certo punto no. Quindi poi dipende anche che tipo di prodotto hai. Però se tu hai un prodotto singolo dove praticamente l'engagement con l'utente è abbastanza a 360 gradi. Nel senso che tutte le funzionalità poi sono molto legate l'una all'altra eccetera. Secondo me a un certo punto diventa un po' più complesso usare queste metodologie. No, è interessante il fatto appunto che tu dici anche dell'avere un calendario di lavoro molto serrato in modo tale che insomma tu ogni settimana hai qualcosa nuovo. Questo motiva anche il team nel lavorare su degli obiettivi diciamo molto stringenti ma anche molto concreti poi alla fine. E sicuramente riduce il rischio perché insomma se sbaglio una funzionalità in fin dei conti ci hai lavorato una settimana nel caso la butti e buonanotte insomma. In aggiunta scusa perché aiuta anche a tracciare cosa funziona e cosa non funziona. Quindi quando tu lanci una nuova funzionalità se appunto hai un lancio abbastanza limitato tu vedi come cambia l'engagement. Senti, a soldi come state emessi? Cioè nel senso che oggi diciamo mi sembra che Cascato sia stata finanziata da Innogest? È stata finanziata da Innogest per 2 milioni di euro in questi tre anni. Quindi questo periodo di funding finirà, se è stato abbastanza intuitivo, finirà fra qualche mese. Infatti abbiamo iniziato da un mese circa fundraising che sta andando decentemente perché c'è almeno un commitment importante. Quindi prevediamo di chiuderlo ad aprile di quest'anno, scusa del 2012 ovviamente. E quello che vorremmo fare è un serious funding intorno ai 3 milioni per permetterci di avere 18-20 mesi di tempo per dimostrare il modello di business, magari non arrivare alla profettabilità ancora o arrivarci lì lì, però comunque invece dimostrare il modello di business. Italia o estero? Allora, tutto è sviluppato in inglese, quindi soprattutto per il mercato anglosassone, anche se è vero che comunque le comunità si creano su Circle Me in qualunque lingua, anche perché i contenuti possono essere generati. Il nostro focus è assolutamente di essere internazionali al giorno 1 e internazionali tante volte è naturale che sia inglese soprattutto, come prima lingua. Nel cercare un round A cambiano completamente, anche se io non gesto un investitore istituzionale, quindi mi immagino che anche nella prima fase a cui tu non hai partecipato, il processo di funding non sia stato da business angel, ma sia stato da investitore istituzionale. Adesso nel passaggio dalla fase iniziale al round A, quindi all'investitore istituzionale per andare a chiedere 3 milioni, il business plan glielo devi portare? Oh no, assolutamente, questo è tutto un altro gioco rispetto agli investimenti iniziali dei business angels. Quindi in questo caso ovviamente il modello di business si fa e si fa dettagliato al mese, che poi questo si è accurato e che non cambi ogni 3 o 6 mesi è un'altra storia. Certo. E lo sappiamo tutti, insomma chiunque lavora in questo settore lo sa che in 6 mesi cambia proprio il comportamento stesso degli utenti e quindi per forza di cose cambia anche il business mod. E come si approcciano questi investitori? Cioè bussi alla porta, ti fai presentare, adesso avendo già un investimento mi immagino che Innogest sia più che interessata a farvi proseguire, no? Certo e aiuta moltissimo ovviamente a avere quel tipo di network, quindi infatti secondo me all'inizio un suggerimento da dare è quello di trovarti, di trovare comunque smart money di investitori che anche angel investors che da una parte possono veramente estenderti il network, moltissimo di contatti, dall'altra parte però che non sia smart money che vuole essere smart per forza e quindi mette la testa in ogni tipo di attività e operations che hai perché sennò non riesci a gestire il business. Quindi da una parte trovarti degli investitori che hanno network e ti possono aiutare e ti possono dare un advice importante però ovviamente che non siano troppo intenzionati a voler gestire la società. Per noi Innogest aiuta tantissimo nel network di contatti a livello internazionale. In generale trovare questi tipi di investitori è difficile farlo bussando alla porta proprio non conoscendo nessuno. Quindi se devo dire, noi abbiamo fatti ovviamente già tantissimi di incontri e contattato tantissimi di questi nel nostro anno comunque passato perché i contatti poi vengono fatti continuamente, tante volte non è molto efficace fare il cold call, il cold email. L'introduzione anche se è un po' in diretta funziona molto meglio. Quindi anche se è un... Ci sto perdendo... Pronto, pronto... Pronto? Ah ok, ti ho perso per un attimo. Ah ok, non so se vuoi che ripeto, però praticamente secondo me è importante averci un qualche tipo di introduzione. Ok, va bene, senti, credo che ci siamo detti un sacco di cose, sono 40 minuti che chiacchieriamo, quindi adesso io ho almeno un altro paio d'ore per... In bocca al lupo. Per rivedere il tutto. Beh, che dire, insomma, intanzi tutto è in bocca al lupo. Ah no, ti faccio l'ultima domanda. Dimmi. Dove sei tra tre anni? Se non finisce il mondo l'anno prossimo, diciamo, che c'è questa cosa che è nel 2012. Tra tre anni dove sei? Sei ancora in cascade a fare, che ne so, magari concorrenza Facebook oppure hai fatto una exit, sei su una barca? No, senti, anzi, questa cosa della exit veramente non la sopporto perché tanti ragazzi che incontro poi mi parlano subito della exit o cercano di capire l'exit o addirittura i venture capital pretendono una slide in genere sulla exit e l'exit è in genere in quella slide si mette IPO oppure acquisizione, eccetera. Il concetto di exit non ha senso, cioè tu la start up la fai per fare qualcosa che faccia la differenza, per crescere, fare una grande società, che poi la exit avvenga per qualunque motivo, bene, male, non lo so, dipende poi dalle situazioni della vita, dalle richieste, però è ovvio che non si pensa a fare la exit quando si fa una start up se si fa seriamente. I soldi facili non esistono in assoluto e quindi chi pensa a fare una start up e fare già la exit secondo me parte malissimo. In generale veramente noi facciamo Circle Me, prodotto di Cascade, perché pensiamo che facciamo nella società in assoluto, può diventare una grande cosa, non è un competitor di Facebook perché non è un social network, non ti colleghi con le persone, ti colleghi con dei concetti, con le tue passioni, quindi è in qualche modo una soluzione, non dico proprio di nicchia, però è proprio in un altro settore. Però certo ci crediamo così che diventi una cosa grande, quindi io spero che comunque sarò molto coinvolto con Circle Me, con il prodotto di Cascade tra tre anni, speriamo che sia un grande team che continui a crescere, se poi diventerà un Facebook like di queste dimensioni, sinceramente non lo so e non mi interessa, però che abbia successo quello è importante. La barca sinceramente non mi interessa, cioè vado a vela, mi piace la vela, però fare uno start up con queste intenzioni praticamente l'hai già ammazzato. Va bene, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che se uno fa un business, poi diciamo nell'evoluzione del business c'è quello che ha senso essere acquisiti o comunque entrare a far parte di realtà più grandi, perché tu apporti valore e evidentemente ha un senso farlo, ma partire con l'idea che nel giro di magari sei mesi qualcuno ti compra e a quel punto è svoltato, sì in effetti stai partendo. Sì, secondo me parti male, ti concentri sulla cosa sbagliata insomma. Esatto, esatto, poi ci sono quelle persone che in qualche modo lo fanno, esistono ad esempio tanti start up che sono dei copy cut di società che hanno già avuto successo magari all'estero, però da una parte non è proprio mia intenzione fare questo tipo di start up e dall'altra parte è vero che in genere non funziona e il primo modo invece per farla funzionare è che uno veramente crede che vuole fare in qualche modo la differenza. se poi non va bene, però uno ci ha provato veramente e non ci ha provato per fare i soldi. Va bene, allora, in bocca al lupo innanzitutto. Grazie Grepi, ovviamente anche a te siccome sentite che stai facendo fundraising. Esatto. E anzi auguri anche di buon Natale. Buon Natale anche a te e ci sentiamo con l'anno prossimo. Ok, ciao grazie. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao, ciao, ciao.